Buongiorno, grazie, mi presento, sono Riccardo Rigillo dal programma, vedete che lavoro per il Ministero Politica e Ricole, ma io sono qui in un'altra incarnazione perché sono qui nella mia veste professionale e personale di analista strategico di questioni di difesa e militari e in particolare appassionato di giochi specialmente di wargame. Da questa mia passione parte lo studio che ha la base di questa presentazione perché io sono quello che si definisce in gergo un grognar, cioè uno di quei giocatori particolarmente appassionati dei wargame classici. Da questa mia passione mi è sorta l'esigenza di definire, di capire perché mi piaceva un certo tipo di gioco e non un altro, comunque più un certo tipo di gioco che non un altro e trovare quindi una definizione, una classificazione di questi giochi per differenziali dagli altri. Si tratta di giochi che simulano la realtà, come vedremo in maniera molto specifica, molto dettagliata. Innanzitutto il gioco, lo sapete qui, credo tutti, può simulare la realtà in vari modi. Innanzitutto si può giocare interpretando la realtà, come dicevamo anche questa mattina, ma si può giocare anche estraniandosi dalla realtà, osservandola dall'esterno. Quindi abbiamo giochi di interpretazione e giochi che ci permettono invece, questa è una caratteristica tipica dell'essere umano, che ci permettono di osservare la realtà, di studiarla e di controllarla. Diciamo che i giochi di cui ci stiamo occupando, sono generalmente i giochi da tavolo, in particolare i wargame, appartengono a questa seconda categoria, anche se vedremo, anche la parte di interpretazione può essere molto importante in questa classe di giochi. Per distinguere i wargame da altri giochi similari, partiamo da una classificazione di tipo intuitivo. Innanzitutto non c'è, che io sappia, una classificazione universalmente condivisa di questi giochi, non c'è una entità che abbia certificato, uno studio che abbia certificato la classificazione, quindi noi andiamo avanti in maniera sperimentale. Innanzitutto qui io distinguerei il wargame vero e proprio da altri giochi, che sono giochi che definirei più di ambientazione, tipicamente di ambientazione, ad esempio il gioco europeo, gli Eurogame, dove la simulazione della realtà, per così dire, è data da caratteristiche che sono di atmosfera, caratteristiche narrative, caratteristiche di colore, per così dire. Laddove invece nel wargame la simulazione strategica cerca di riprodurre dinamiche particolarmente corrispondenti alla realtà, dinamiche realistiche. Il cosiddetto Ameritrash è un gioco, diciamo, forse intermedio, è quello infatti che crea spesso più problemi di classificazione, perché ha sicuramente un carattere di ambientazione, che è quello principale. Ha una simulazione dinamica, ma in termini più generali, ma soprattutto possiamo dire che ha una forte enfasi emotiva, una forte drammatizzazione per ricostruire la realtà. Veniamo a quelle che sono state allora storicamente le definizioni di wargame. Qui abbiamo tre definizioni che nel corso degli anni si sono succedute. La prima è quella di Palmer, un testo comunque di riferimento nel campo dei giochi di simulazione strategica, che ci ricorda che il wargame può essere tanto complicato da cessare di essere un divertimento a un certo punto. Una definizione molto più recente che quella di Fankrevel, che non è un giocatore, è un analista invece in materia di difesa e in materia militare, parla dei wargame con giochi di strategia che simulano alcuni aspetti chiave dei combattimenti reali. Qui siamo sempre nella simulazione dettagliata della realtà. Una definizione che trovo molto interessante per i giocatori di questo tipo di giochi, in generale per i giochi di simulazione bellica, per i giochi strategici e via discorrendo per alcuni giochi da tavolo, c'è questa simulazione che fa Dannigan, un giocatore, un creatore di giochi oltre al consulente del pentagono per materie di difesa, fa una, assimila i giochi di guerra, assimila il wargame agli scacchi. Questa è un'assimilazione che deriva sicuramente da una filiazione storica del wargame commerciale moderno nel 58 Roberts dagli scacchi attraverso il Kriegspiel di fine 700, primi 800, ma c'è anche un altro aspetto secondo me che è quello che poi rende difficile classificare spesso i giochi da un lato o dall'altro. Per non dire che giochiamo a soldatini spesso noi che giochiamo con i wargame cerchiamo di nobilitarci riportando tutto allo scacco, al gioco degli scacchi, quindi un qualcosa dove è tutto assolutamente razionale e direi rispetto al wargame non c'è una componente di incertezza intrinseca al gioco, cosa che invece il wargame ha, come vedremo. Questa cosa qui porta appassionati di giochi a cercare sempre di classificarli come wargame proprio per questa sorta di nobilitazione, diciamo così. Questo è il primo gioco commerciale che unisce nel wargame, forse alcuni di voi lo conosceranno, vedete lì che c'è, viene citato come gioco classico di military chess, di scacchi militari, c'è una vocazione della metafora scacchistica già molto forte nel primo gioco e c'è anche una componente di interpretazione, attenzione, no you command an army group, identificatevi col comandante. Vediamo qual è la materia però di questi giochi, di che cosa si tratta, perché sono giochi molto vari, abbiamo giochi che parlano di pistoleri, giochi che parlano di dinamiche economiche molto complesse, allora noi cosa vogliamo identificare. Vediamo cos'è la strategia, parliamo di giochi di strategia e cos'è la guerra, oggetto del gioco. Ci rifacciamo a Clausewitz che credo che in materia sia l'autorità meglio riconosciuta di tutte. Allora la strategia è l'impiego della battaglia ai fini della guerra e nel gioco potremmo dire il coordinamento di singole mosse nello spazio e nel tempo al fine di ottenere un risultato su scala più grande. Detto questo, questo accomuna parecchi giochi di strategia, allora andiamo sul tema, dalla definizione guerra continuazione politica con altri mezzi potrei dire che la guerra è uno dei mezzi del confronto fra stati, la guerra è uno dei mezzi dei confronti fra soggetti, il conflitto è uno dei mezzi del confronto fra soggetti. A questo punto direi che il world game può essere semplicemente definito come simulazione strategica a carattere storico polemologico, che si tratti di individui, che si tratti di stati, purché siamo in una ricostruzione di conflittualità polemologica storica, mi rifaccio la definizione di butu, di polemologia, siamo sicuramente nell'ambito che stiamo studiando. Tant'è vero che come vi dicevo le tipologie di simulazione possono essere varie e la complessità è data sia dall'uso di variabili plurime, economiche, produttive, eccetera, eccetera, nel caso di un gioco complesso come Europa Universalis, oppure una complessità attraverso un elevato numero di unità e di dettagli, il caso ad esempio della serie Europa della GDV o di Campaign for North Africa. Il discrimine comunque per identificare un world game, un vero gioco di simulazione, è non nella scala di gioco ma nelle dinamiche. Per semplificare io farei qui un esempio per chiarire quali possono essere gli elementi di discrimere per una classificazione. L'esempio mi rifaccio al gioco Fortress America che vinse il Roberts Award nel 1986, la quale assegnazione del premio creò un caso, perché ci fu una grande protesta da parte dei giocatori classici dei grognari e lo stesso Roberts decise di togliere il premio a Origins, che era la convention che lo assegnava, per darlo a Roger McGowan e per poi farlo assegnare a Valoncon e successivamente alla WBC dove si dovrebbe assegnare ancora oggi. Allora qual era l'elemento che aveva causato questa protesta, questo problema? Già in passato vediamo che alcuni giochi, in particolare Civilization, avevano avuto questo premio senza che ci fossero state particolari proteste anche se non erano strettamente definibili come wargame. Ma Fortress America aveva alcune particolarità, oltre ad appartenere a un'epoca, che vedeva una proliferazione dei giochi e quindi forse cominciava a vedere una necessità di classificazione dei giochi di un certo tipo. Attraverso questa necessità diciamo gli elementi che venivano, che possiamo identificare, che avevano creato questa protesta erano sicuramente il fatto che si trattava di fantastoria anche se il premio era stato assegnato per il ventesimo secolo. Anche qui Fortress America è comunque identificato come uno dei principali ameritrash storici, un bellissimo gioco molto evocativo ma poco storico, poco realistico e quindi questo è un altro elemento. Storia e realismo sono due elementi che ci permettono la classificazione. E infine, questo secondo me è un elemento molto importante per classificare la simulazione nei giochi, l'incertezza come viene raffigurata. È Alea o è qualcosa di diverso, qualcosa di più vicino a un calcolo di probabilità. Nel gioco Fortress America il sistema di risoluzione dei combattimenti, per quanto potesse essere ingegnoso, comunque era un sistema ancora abbastanza aleatorio e casuale. Quindi abbiamo questi tre elementi secondo me che ci permettono di identificare un wargame di simulazione vera e proprio che sono la ricerca storica alla base, la contestualizzazione e l'inversione nell'evento e la riproduzione dell'incertezza. Partiamo dalla storiografia analitica. Se voi avete presente riviste come StrategenTetix o altre riviste affiliate come Modern War, sono riviste che vengono utilizzate o su cui scrivono anche analisti militari, quindi richiedono uno studio della realtà, la base è molto dettagliato. Quando la storiografia analitica è molto forte siamo sicuramente in presenza di wargames, così come quando siamo in presenza di forte drammatizzazione siamo in presenza di Ameritrash. Basse tutte e due abbiamo l'Eurogame, fermo restando che questa non è una classifica di bontà o di miglior o peggior gioco, si tratta semplicemente di preferenze. Nel quadratino in alto direi che è un gioco assolutamente riuscito, non lo classificherei, sicuramente con un'altra storiografia potrebbe essere un wargame, con un'altra drammatizzazione potrebbe essere un qualcosa di diverso. Un altro elemento abbiamo detto è nella evocazione, comunque nella riproduzione dei meccanismi che in giochi che non sono wargame di simulazione ma sono semplicemente giochi a tema bellico vengono riprodotti con elementi molto semplici, mentre invece lì dove c'è una modellizzazione vera e propria, una modellizzazione complessa e completa possiamo parlare effettivamente di giochi di simulazione bellica, di wargame di simulazione. Infine l'Alea, qui diciamo che partendo dal risico, un gioco dove l'Alea è morto forte, quindi qui il dado è in grande dimensione, passando per i dati cosiddetti percentuali, quindi due dati da 10, si arriva in realtà a giochi più complessi dove è il calcolo di probabilità che ci dice qual è la tabella dei risultati dei combattimenti, lì forse si vede in piccolo, quella è una tabella, una CRT dei giochi classici dell'Avlonil, non dimentichiamo che Charles Roberts fu portato a forza nella sede della renda dei funzionari del Pentagono perché la CRT che lui aveva ideato, lui dice in mezz'ora, era troppo simile a quella che il Pentagono usava per le sue simulazioni, quindi questo ci dice molto dei corti circuiti che possono esserci fra giochi e realtà. Infine qui su questa tabella ho messo in relazione realismo e giocabilità, laddove i giochi che preferiscono giocabilità rispetto al realismo sono giochi molto divertenti come il Monopoly, laddove abbiamo un realismo molto forte si tratta di simulazioni vere e proprie che cominciano a perdere assolutamente il carattere di gioco, pensiamo a quelle simulazioni che vengono usate in campo militare per la pianificazione logistica, sicuramente giochi che hanno poco realismo e poca giocabilità sono giochi riusciti male e direi a questo punto che il wargame è quello che dovrebbe riunire al meglio giocabilità e realismo, faccio l'esempio di Gulf Strike non a caso perché Gulf Strike fu un gioco utilizzato nel 90 quando ci fu l'invasione del Kuwait, era l'unica simulazione disponibile sul mercato e non solo per poter simulare quello che stava accadendo nel Golfo Persico, fu usato questo gioco con dei progettisti di giochi e dei giocatori e qualcuno, Jim Dunningham che partecipava al gruppo, fece la battuta con tutti i miliardi spesi nel corso degli anni nei laboratori elettronici e ricerche, quello che trovarono di meglio al Pentagono fu un gioco commerciale che era disponibile sugli scaffali per pochi dollari già da qualche anno. Questa è una tabella per sintetizzare un po' di quello che ci siamo detti, questo è il frutto di una ricerca di un fan di BGG e di Consign World che scrive sotto lo pseudonimo Dear Doctor e di qualche anno fa, non è aggiornata ma è molto interessante perché lui classifica i giochi in base al peso e in base al voto medio su BGG. Vediamo qui che il peso che è quello che viene definito dalle scatole non è attribuito da null'altro che la stessa definizione che viene è data dalla casa che produce il gioco sulla scatola. I giochi vengono divisi in diverse categorie, negli engineer sono quelli più complessi, magari più che appassionano più gli specialisti, abbiamo infatti lo stesso Golf Strike, Europa Universalis, giochi di non grandissimo successo ma comunque sicuramente molto appassionanti per noi grognari. La vecchia guardia sono giochi come ASL che hanno una forte complessità ma hanno anche avuto un grande successo di tipo commerciale, sempre poi in un ambito che è quello di Wargame che è un ambito di nicchia e qui poi in basso con peso, diciamo con maggiore leggerezza abbiamo Memorial 44, Axis and the Lies, tutti i giochi che per me viene anche difficile definirli come Wargame. Un ultimo cenno che credo sia interessante visto che parliamo di simulazioni è alle simulazioni che arrivano nel corso di una partita ma che non sono necessariamente interni al gioco. Da qui io parto facendo l'esempio della dinamica nel gioco diplomacy, una dinamica di tipo diplomatico negoziale che è prevista nelle regole del gioco che però è una dinamica che in molti giochi multiplayer si esporta quasi automaticamente, io l'ho sperimentata personalmente durante un gioco campagna di War and Peace ma penso che su vari giochi si può sperimentare anche se non è prevista strettamente dalle regole e quello che c'è interessante innanzitutto è che queste dinamiche interne al gioco come nel caso di diplomacy spesso possono se non c'è come dire una professionalità giocosa del giocatore possono debordare dal campo di gioco e ci possono essere rotture di amicizie per i tradimenti che si consumano in seno alle partite di diplomacy. Allo stesso modo la simulazione di questo negoziato può portare i giocatori a interpretare il ruolo e siamo qui nella interpretazione, a questo punto è quello che per esempio avviene nello scenario campagna di War and Peace, se uno scenario è ben bilanciato, se una simulazione è ben bilanciata, chi rappresenta i vari paesi, nel caso io ho rappresentato più volte l'inglese nel War and Peace, si porta a ripercorrere quelle dinamiche o comunque a ripercorrere quei temi di interesse per le potenze che vengono rappresentate e quindi direi a questo punto per concludere che sicuramente una buona simulazione è quella che deve portare a una buona interpretazione. Grazie per l'attenzione.